Cos'è la società senza dolore? È una società in cui le persone hanno una paura generalizzata del dolore, che ha come conseguenza un'anestesia permanente. Le persone cercano di fuggire dal dolore attraverso dei farmaci o delle tecnologie, al posto di affrontarlo. Il dolore è diventato tabù. Si ha paura di mostrarsi sofferenti, altrimenti si verrebbe etichettati come deboli. E in una società delle performance la debolezza non è contemplata, viene vista come un problema che deve essere risolto per ottimizzare le prestazioni. La conseguenza è che si diventa sempre più deboli, perché non confrontandosi mai col dolore, si iniziano a percepire come dolorose cose sempre più piccole. Finché un giorno anche una carezza sulla guancia ci sembrerà qualcosa di doloroso.